Bravissime le nostre ballerine. Adesso invece presentiamo un duo, un duo particolare perché il ballerino è il nostro maestro di pop, è Jefferson Peradatti. La ballerina invece è una delle assistenti alle insegnanti e a Chiara Mencacci e loro due persone fanno parte anche del team di allenanza e del performing team che è il gruppo che va in giro per il mondo perché tra poco saremo in Spagna e a marzo saremo in Grecia con le coreografie di Contemporaneo, con il spettacolo di Contemporaneo. Quindi con Two Poppins, Jefferson Peradatti e Chiara Mencacci. Grazie. 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 Grazie.